Solo perché, resine e microcemento. Un'azienda artigianale che da oltre 30 anni si occupa della fornitura e posa in opera di pavimenti in legno, pavimenti e rivestimenti in resina e microcemento. Una realtà che unisce tradizione e innovazione per trasformare i legni più pregiati in eccellenti pavimenti per la vostra casa. Esperienza, versatilità, abilità artigianale e professionalità sono i punti di forza che ci consentono di soddisfare le esigenze di tutti i nostri clienti. Solo perché, resine e microcemento. Ci trovi in via comunale Limitone d'Arzano 53 a Napoli al telefono 081573 3090.